ciao a tutti amici schiacchisti ci troviamo al secondo video della serie sulla variante di spinta della francese come vi avevo promesso nel primo video tratteremo la variante a3 dunque dopo d4 d5 e5 c3 cavallo c6 cavallo f3 donna b6 e studiamo la mossa a3 ora nel caso in cui vi siete persi il primo video vi invito a andarla a vedere così da poter avere un'idea più completa sulla francese è un video introduttivo dove ho diciamo spiegato le dibate ed è molto importante per capire meglio quello che vedremo in questo video insieme come dicevo ci occupiamo della variante a3 allora come al solito la cosa in forno è capire a cosa serve la mossa cioè perché il bianco gioca a3 e qual è il suo obiettivo ora l'obiettivo di a3 è da un lato rendere possibile b4 mossa importante perché permette al bianco di espandersi diciamo anche solo di donna e diciamo espandendosi solo di donna può bloccare in parte l'attacco del nero su d4 dunque questa è la principale rende anche possibile poiché per il bianco il fatto di poter muovere l'alfiere dunque questa è un'altra cosa fondamentale per il bianco in questo caso comunque tendenzialmente a3 serve per spingere in b4 a questo punto il nero un problema il nero deve capire come sviluppare i pezzi perché quando noi giriamo la variante di spinta è un tipo di variante dove siamo in assenza di spazio e quando ci troviamo in assenza di spazio avere uno sviluppo sempli avere uno sviluppo è sempre più più difficile e dunque è fondamentale capire come sviluppare i pezzi dove piazzarli in modo particolare capire dove piazzare il cavallo in g8 e dove piazzare l'alfiere in f8 come dicevo nel video introduttivo l'obiettivo del nero in queste posizioni è attaccare sul centro dunque in questo caso attaccare su d4 dunque il nostro sviluppo deve essere collegato al nostro piano futuro per questa ragione il cavallo che si trova per esempio in g8 che adesso vi evidenzio potrebbe essere davvero buono su f5 perché su f5 può attaccare d4 per questa ragione la mostra che vi consiglio è cavallo h6 che serve a lasciare l'alfiere libero di poter difendere c5 perché in teoria giustamente mi potresti dire posso anche fare cavallo h7 però con cavallo h7 blocco l'alfiere e devo stare attento a una seconda d per c5 e se mangiassi il pedone dopo ad esempio al f3 la donna non ha un gioco semplice e dunque la sconsiglio per questo motivo anche perché in realtà il bianco potrebbe fare prima b4 e poi comunque sia al f3 il bianco si espande rapidamente e rischiamo di rimanere un po' bloccato per questa ragione il mio consiglio è fare cavallo h6 lascia libero l'alfiere e permette cavallo f5 e la mostra alfiere per h6 non va bene perché se fa alfiere per h6 noi facciamo prima donna per b2 attaccando la torre e poi dopo riprendiamo l'alfiere dunque sarebbe un'ottima soluzione per noi questa dunque non conviene di solito il bianco prosegue con b4 giocando b4 l'attacco su b2 non c'è più e dopo c per d4 il bianco ha due scelte può o riprendere il pedone in d4 che è una scelta comunque fattibile o può anche scegliere di rimanere adesso il cavallo perché adesso non c'è più l'attacco su b2 e dunque il bianco è libero di prendere anche il cavallo in questo video ci occuperemo della presa del cavallo nei prossimi vedremo la mossa c per d4 se il bianco prende il cavallo noi molto semplicemente riprendiamo l'alfiere e il bianco prosegue con c per d4 a questo punto è fondamentale giocare la mossa alfiere d7 perché non è semplice capirlo adesso proverò a spiegarvelo perché in pari alla minaccia che il bianco qui è di giocare cavallo c3 cavallo a4 costringendo la donna alla ritirata sostanzialmente e se la nostra donna deve andare via otteniamo da nero una evoluzione passiva difficile da gestire dunque è meglio evitare questo piano del bianco per evitare l'idea cavallo c3 cavallo a4 è fondamentale fare alfiere d7 perché alfiere d7 può controllare a4 e può bloccare questo cavallo facciamo un esempio alfiere d7 cavallo c3 a questo punto se cavallo c3 per esempio a questo punto possiamo anche sacrificare direttamente in b4 col cavallo e dopo a per b4 alfiere per b4 abbiamo sacrificato un pezzo prendendo due pedoni ma in più adesso il cavallo in c3 è praticamente indifendibile potrebbe provare a fare torre c1 però arriverebbe donna a5 può provare a fare donna b3 ma arriva subito torre c8 e attacco il cavallo tre volte dunque l'unico modo per raggiungere un difensore al cavallo è fare praticamente redd2 però a quel punto gioca rocco e in un modo molto semplice sarà torre c7 torre c8 raddoppiando e andando a conquistare il cavallo con vantaggio decisivo se il bianco prova a difendersi giocando cavallo g1 con idea cavallo e2 noi possiamo fare f6 avendo un nuovo fronte l'idea f per d4 e aggiungere il pedone all'attacco del cavallo se fa f4 per difendersi a quel punto f per e5 f per e5 e poi semplicemente alfiere 4 prima con cui adottiamo la donna seconda b2 e poi sta vicenda contro alfiere per c3 torre per c3 e torre per f1 con il alfiere non c'è nulla da fare dunque otteniamo poi un vantaggio chiaramente decisivo dunque questo è un ottimo sacrificio per il nero dunque un'ottima un'ottima mossa dunque un cavallo c3 non può essere giocata per via di cavallo per b4 se il bianco gioca cavallo a4 qui non c'è problema perché noi giriamo tranquillamente dalla presa del cavallo e dopo donna per portiamo il nostro cavallo indietro su c6 abbiamo preso un pedone e la nostra posizione al momento è tranquilla non abbiamo grossi problemi in pratica dunque alfiere di c8 è una mossa importante se noi non la giocassimo e giocassimo per esempio torre g8 immediata allora cavallo c3 sarebbe forte perché poi se facciamo alfiere di d7 adesso non funziona perché cavallo a4 donna c7 oggettore c1 il bianco ha la posizione attiva e il nero rimane in una posizione molto passiva assolutamente da evitare dunque abbiamo capito l'importanza di alfiere di d7 dunque se alfiere di d7 lui non può giocare cavallo c3 per via del sacrificio in b4 deve scegliere altre mosse abbiamo principalmente tre opzioni o h3 che vedremo il perché o alfiere di d2 o torre in a2 le motivazioni di queste mosse allora h3 serve ad evitare a tutti i costi torre g4 perché il piano classico del nero in questa posizione è torre g8 torre g4 per pressare d4 come ho detto all'inizio attaccare d4 un piano classico del nero e il bianco giocare da h3 cerca di evitarlo alfiere 2 servirebbe per sviluppare la vita dello sviluppo e roccarsi torre a2 servirebbe per praticamente difendere d4 l'idea sarebbe torre a2 torre d2 quindi queste sono le tre opzioni in questo video ci occupiamo intanto di h3 nel prossimo vedremo le altre opzioni e su h3 come dobbiamo giocare intanto torre g8 è sempre un'ottima mossa perché limita lo sviluppo dell'alfiere e dunque per sviluppare l'alfiere il bianco deve giocare g3 quindi deve tenere il pedone g protetto e subito dopo g3 il piano molto interessante può giocare il nero e h5 h5 deve avere una bella mossa l'idea è semplicemente fare h4 sfruttando il fatto che il cavallo f3 è sovraccarico cioè deve difendere d4 e deve anche difendere h4 dunque se il bianco prosegue con uno sviluppo sclassico o con l'alfiere g2 allora oggi abbiamo subito h4 e la struttura è già danneggiata perché dopo g4 h5 chiaramente il nero qui va a stare meglio perché l'alfiere non si è proprio protetto dunque l'alfiere g2 non è il massimo se però magari il bianco gioca l'alfiere in e2 noi comunque possiamo fare sempre h4 c'è una mossa forte perché dopo g4 h5 creiamo una bella pressione e g5 non è il massimo perché dopo il fiere a7 il pedone ha sicuramente dei problemi e il nero ha davvero un'ottima iniziativa dunque in queste posizioni se h3 il piano migliore per il nero è giocatore g8 e prestare g2 il nero dovrà fare g3 per bloccare e a quel punto la spinta h5 è molto forte perché creiamo pressione sia sulla colonna g che sul problema d4 ottenendo davvero un'ottima posizione dunque queste idee di base poi il nero può restare al centro o può anche essere a calo lungo la rocca lunga è sempre possibile quindi possiamo farlo quando vogliamo ma per il momento la priorità è l'attacco la pressione sulla posizione del bianco dunque poi lo faremo solo se necessario il re al momento può tranquillamente rimanere al centro non essendoci nessun attacco al re in questo momento dunque il nero può proseguire nell'ottica dell'attività dunque per la variante h3 sostanzialmente è tutto abbiamo visto le idee principali come vi accennavo prima nel prossimo video vedremo la variante alfiere 2 e poi la variante toria 2 per vedere un po' le differenze le idee di queste due varianti per questo video è tutto se avete domande scrivete sotto nei commenti e vi do appuntamento con il prossimo video